Io penso che sia una piazza straordinaria, ci sono persone con cui ho già lavorato e che stimo, è stata da subito un'opportunità che mi ha affascinato, quindi è con grandissimo entusiasmo che ho accettato questa nuova avventura. L'anno scorso sono stati tanti mesi fermo, però io mi sono sempre allenato con la squadra, ho sempre fatto tutto e sono già rientrato l'anno scorso nel finale di campionato, quindi dal punto di vista fisico sono allenato e di sicuro non sono al 100%, però adesso penso che c'è un periodo per rimettersi a posto. Il mio stato d'animo in questo momento qua, come potrei definirlo, come un bambino al primo giorno di scuola, quindi questo è il mio stato d'animo. Adesso ho grande voglia, ho un immenso entusiasmo e spero di cominciare il prima possibile. Adesso questi giorni che sono stato qui a Palermo, che mi sono allenato con la primavera, non vedo l'ora che la squadra tornasse perché comunque ha veramente voglia di iniziare. Già in estate ne abbiamo parlato, comunque c'erano queste voci, sono stato chiamato e contattato da Palermo, poi non si è concretizzata, diciamo così. Poi diciamo che anche in estate avevo avuto dei contatti con delle squadre di B e qualcuna anche in A, però quando ho visto che c'era la possibilità di venire qui le ho accantonate un po' tutte. Poi sono stato fermo ed è stato comunque un periodo difficile perché comunque sia stare a casa non è mai bello. Mi sono allenato tantissimo e quando poi c'è stata l'opportunità, i primi di novembre, quando il Palermo mi ha ricontattato, non ho pensato più a nessuno perché comunque c'erano anche delle altre trattative in corso, però le ho accantonate tutti perché volevo fortemente questa opportunità perché come ho già detto mi affascinava e penso che già da questi primi giorni che ho visto in città penso che ho fatto la scelta giusta. Adesso non è che ho parlato con il mister perché sinceramente adesso loro sono stati in vacanza, sono stati qualche giorno fermi, non ho parlato, però il mister mi conosce credo abbastanza bene, sa che posso giocare sia da centrale che da esterno, io vengo qua, mi metto a disposizione dove c'è bisogno, all'occorrenza giocherò. Tanto l'obiettivo penso che sia quello lì, lo sappiamo tutti, di centrare la promozione, quindi adesso bisogna solo mettersi a disposizione. Palermo l'ho seguito abbastanza, comunque ho tantissimi amici che ci lavorano e di sicuro è una squadra molto forte, ci ha messo un po' di tempo ad ingranare, però adesso penso che l'organico abbia fatto vedere di cosa è capace, poi di sicuro ci sarà ancora tanto da lavorare, però stiamo parlando di una squadra prima in classifica, arrivo in una squadra prima in classifica, quindi è una squadra che ha dei valori. Per quanto riguarda la città, io comunque vengo da Napoli, quindi sono due città del sud che si assomigliano tanto, quindi ci sono tante cose che le accomunano e penso che non ci saranno particolari problemi di ambientamento.